ancora recine applaude anche fa tutto lucarelli romano più due piacenza 23 21 ancora recine secondo muro per lui è cresciuta come un diesel in questo primo set è la chiude simon 25 a 21 prende l'ascensore simon ancora lucarelli uno di nekelkovic su un romano in partita 25 18 cisterna più che meritato 1 a 1 a dopo per il terzo set e questa è una gran bella azione di cisterna con peric che si trasforma in lucarelli ancora gianni mazzone e arriva la parallela di iuri romano recine lo aspetta lucarelli a teo fa ora muro a 1 primo muro della serata è il miglior realizzatore giordina mona meno 6 cisterna è il muro di pavel peric ovviamente era alonso lui che ha cominciato la partita al posto di caneschi e Cervischi la mette giù e finisce con questo palloletto di lucarelli 25 a 20 il via il via Grazie a tutti.